Falegnameria Paludetto, da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Direttore Filippo Antonelli, in questo momento la squadra sicuramente sta attraversando un periodo non facilissimo dal punto di vista dei punti della classifica, nel senso che in due partite è stato raccolto solo un punto dopo la pausa di campionato, cioè nonostante qual è l'umore della squadra e dell'ambiente in generale? C'è da dire che dall'inizio dell'anno noi mandiamo un messaggio all'insegna dell'equilibrio, sottolineando che questa squadra avrebbe lottato fino all'ultimo per rendere orgogliosa i propri tifosi. Io credo che nell'ultima partita, dopo una brutta sconfitta con la Reggiana, c'è stata una reazione da parte del Venezia. Ho visto una squadra ad Ascoli che ha reagito e ha portato a casa un risultato positivo contro una squadra che naviga in acque brutte della classifica. Quindi io penso che tutto sommato questa squadra sta rispondendo a quello che era un po' l'obiettivo di inizio stagione. Se tutti noi avessimo pensato di ritrovarci a sei giornate della fine, quarti in classifica, con la possibilità di una promozione diretta, credo che tutti noi saremmo stati orgogliosi di questi ragazzi. Quindi al di là di quello che hanno detto le ultime due partite, io vedo una squadra viva e desiderosa di rendere orgogliosi i nostri tifosi, arrembante, che possa portare entusiasmo e vivere in simbiosi con questo ambiente che ne ha bisogno come ne ha bisogno questa squadra. Parlavi appunto di equilibrio. Di che cosa c'è bisogno per mantenere questo equilibrio e per non, se posso usare questo termine, destabilizzare l'ambiente? Sicuramente dei nostri tifosi, sicuramente di tutte le componenti, dalla stampa alla società, al gruppo squadra e al mister, che, ripeto, sta facendo un grandissimo lavoro e se tutti quanti noi siamo focalizzati verso il nostro obiettivo, sono sicuro che l'ambiente rimarrà quello che sto vedendo da ormai 20 mesi a questa parte, cioè un ambiente che ha fame di calcio e che ha voglia di portare questa squadra in alto. Non bisogna dimenticarsi che pur il Venezia, vivendo un sogno, come dice anche spesso, sempre, anzi, mister Paolo Vanoli, quella parola non è mai stata pronunciata, anche perché la concorrenza c'è ed è molto agguerrita. Assolutamente sì, abbiamo delle squadre attrezzate forti, noi abbiamo un allenatore che è forte, ha reso il Venezia organizzato, l'ha fatto diventare attraverso l'organizzazione un gruppo, un gruppo affamato, arrembante, che renderà orgogliosi i nostri tifosi. Io credo che questa deve essere la spinta che ci porta nel finale di stagione. In tal senso la società, quali iniziative sta portando avanti per fidelizzare ancora di più i tifosi, oltre a quelle molto apprezzate, come dimostrano i dati di fatto, degli allenamenti, o meglio parte di essi a porte aperte? Sì, abbiamo riaperto, per agevolare la vendita, l'acquisto dei biglietti da parte dei nostri tifosi, abbiamo riaperto i biglietti, la vendita con Venezia Unica, che ha ben 11 punti vendita in Venezia e tutta la provincia, e quindi continuiamo, oltre a fare iniziative come quella di allenamenti a porte aperte, di coinvolgere le scuole, coinvolgere i settori giovanili, coinvolgere le affiliazioni, anche agevolare i nostri tifosi con l'acquisto in diversi punti vendita in tutta la città. Il tutto lo scopo di vedere un penzo pieno, soprattutto di tifosi arancio-nero-verdi? Sì, questo è quello che io mi auguro dall'inizio dell'anno, l'ho visto pieno l'anno scorso contro nel finale di stagione, l'ho visto pieno quest'anno nella prima parte della stagione, le ultime partite siamo stati condizionati un po' dal tempo, ma sono sicuro che contro il Brescia ci sarà un penzo caldo e pieno di nostri tifosi. Ultima cosa, ma non ultima ovviamente, per la partita contro il Brescia, per meglio dire, come sta andando quindi la prevendita attualmente? Tutte le iniziative stanno rispondendo bene, abbiamo ancora da quantificare, ancora da verificare con il sistema, però stiamo andando bene, siamo circa sui 5.000 tifosi e sono sicuro che questo numero aumenterà.